Ciao a tutti, un saluto agli studenti, amici e sostenitori dell'Accademia Musicale della Versilia. Vi auguro buone vacanze, divertitevi e ci si vede il prossimo anno. Ciao! Volevo augurare a tutti voi una serena estate, sicuramente ce lo meritiamo tutti e vi aspetto prossimamente sempre in Accademia per poterci addentrare ancora di più nel meraviglioso mondo della cuoce. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, ciao Teo, un augurio di buone vacanze a tutti, ci vediamo presto, ci vediamo a settembre. Ciao! Carallievi e care famiglie, siamo arrivati alla fine di questo anno, nonostante sia stato un anno particolare perché siamo stati tutti più lontani, ma abbiamo avuto modo comunque di sentirsi tutti più vicini e di poter andare avanti. L'estate è arrivata, quindi vi auguro delle buone vacanze e una felice estate, con l'augurio di potervi rivedere tutti a settembre. Un abbraccio e a presto! Un caro saluto a tutti voi per augurarvi una buona estate e buone vacanze! Ciao, ci vediamo a settembre! Ciao, un saluto a tutti i ragazzi dell'Accademia, mi raccomando, quest'estate rilassatevi, divertitevi, ma soprattutto fate anche tanta musica e suonate il vostro strumento. Buona estate! Ciao! Un saluto a tutta l'utenza dell'Accademia musicale della Vertilia, con l'augurio di passare una buonissima estate di musica, in attesa di rivedervi tutti quanti a settembre. Ciao a tutti gli allievi e genitori dell'Accademia musicale della Vertilia, vi auguro una buona estate e ci vediamo il prossimo anno. Ciao! Ciao a tutti! L'estate è arrivata, siamo quindi giunti alla fine di questo anno, beh, un po' particolare. Dobbiamo assolutamente ammettere che la musica è stata per noi fondamentale, la vera protagonista delle nostre giornate. Quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona estate, ma soprattutto tanta bella musica. Ciao a tutti! Ciao! Buongiorno a tutti! Io, come docente di canto dell'Accademia musicale della Vertilia, della quale faccio parte già da due anni e qualche cosa, auguro a tutti voi una buonissima estate. Abbiamo a che fare un grande dono, che è la musica, che sono le note, le parole, delle opere. E possiamo ancora sognare, sperare e godere di un sano ottimismo. Facciamo tesoro di tutto questo e rivediamoci abbraccio aperto. Un caro saluto e un abbraccio virtuale agli studenti, agli amici e ai sostenitori dell'Accademia. Vi auguro di trascorrere una bellissima estate e arrivederci a settembre. Un altro anno accademico è giunto alla fine e io volevo augurare a tutti i nostri iscritti ed anche alle loro famiglie una serenissima estate ed un meritato riposo. e noi ci rivedremo subito dopo le vacanze per passare insieme un nuovo anno pieno di musica e di gioia. Un bacione a tutti. Auguro agli allievi dell'Accademia musicale della Vertilia e alle loro famiglie una buona estate e sicuramente ci vedremo tutti a settembre per tanta bella musica e per nuovi progetti. Tutti insieme. Ciao! Grazie a tutti! 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 ! ! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! ! Grazie a tutti! ! 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